Allora resti qua a mangiare? No, non posso, te l'ho detto, ti ringrazio, ma c'è mia madre che mi aspetta Ah, sve... ecco qua, ecco qua, vedi? Ti sta chiamando tua madre? No, Paolo Bonolis Ma c'è tutto il mondo leggero che mi sta chiamando mia madre? Pronto, ma? Forza, Fabrizio, sali su, che la pasta è pronta e porta il pane quando sali E non ci incischiare, muoviti Ciao, mamma Paolo! Io devo prendere una costata, le braciole e la salsiccia Ma perché devi fare una grigliata? No, volevo provare a rimontare il maiale Me lo passi un tovagliolo? Ma perché ti sei sporcato? No, mi sto allenando a fare la madonna Vero Me lo passi il martello? Ma perché devi piantare il chiodo? No, glielo devo riportare a Thor, che me l'ha prestato e mi schiro lì che mi aspetta ad Asgard Ma certo che devo piantare il chiodo! Conosci Thor? Ma come faccio a conoscere Thor? Che non esiste, Thor non esiste come il tuo cervello che non esiste perché ogni volta mi fai queste domande che mi danno fastidio E' che io vorrei essere un supereroe Ma tu sei un supereroe E chi sono? Tu sei... Minchia Thor Solo chi è degno può impugnare il martello E adesso andiamo ad Asgard Ma prima passiamo dalla farmacia E perché? Dobbiamo prendere gli occhi No, no, è inutile che ti comporti così Tu sei mio fratello e mi devi portare il rispetto Quando ti parlo mi devi guardare negli occhi Grazie di覺得 he Va little me dì Vi 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 Grazie a tutti.